Modena, 14 giugno 2023 ricerca su un tappeto a Marsaglia di un 18enne da Modena che si tuffò nel fiume Seccia e non fu più ripreso. Per dare alla sveglia un amico di 17 anni del giovane. Il ragazzo ha riferito che ha cercato di immergersi da un artefatto in cemento situato vicino alla briglia del fiume Seccia, a Marsaglia. I due erano andati lì con un ombrello da trascorrere il pomeriggio sul fiume l'acceleratore in un punto non abbastanza facile. In effetti, ci sono cascate e qui la corrente è forse molto, anche seguendo le recenti piogge. Secondo la storia del suo amico, il 18-year-old, magrebino, sarebbe scivolato mentre si tuffa. Il ragazzo ha immediatamente avvisato il salvataggio con il telefono cellulare e le sue grida di aiuto hanno anche ricordato altre persone nelle vicinanze. La polizia è intervenuta sul posto con la squadra mobile e i vigili del fuoco con i subacquei. Marsaglia non c'è ragazzo di 18 anni dopo un tuffo nel fiume Seccia le ricerche si stanno concentrando sotto il ponte ferroviario, in via Stradella Cave Cemetery. L'elicottero dei pompieri e dei droni sono anche in azione. Rinuncia ancora senza esito.